Chiari amici, cari concittadini, siamo al via di una campagna elettorale caratterizzata dal risparmio. Sarà la crisi, sarà il fatto che i partiti ormai hanno poca presa sugli elettori. Si cerca di dare un'immagine di risparmio, occulatezza. Si cerca di dare l'immagine del buon padre di famiglia che, pur perseguendo interessi nobili, risparmia. Certo che questi dalla sinistra ce ne hanno le sordi a buttare. Guarda qua.